Ciao a tutti, buongiorno a tutti ragazzi, come state? Spero bene. Allora, poi facciamo anche oggi come l'altra volta, disattivo i commenti, così è più pulita la schermata per studiare. Alla fine della sbarra le riattivo un attimo e così ci salutiamo e mi dite qualche cosa. Ricordatevi che ci sono sempre le domande che potete fare, quindi magari dopo la sbarra se ho un attimo le guardo se c'è qualche cosa di particolare, ok? Per il momento disattivo i commenti, va bene? Ecco, aspettiamo ancora un secondo, i numeri stanno salendo, quando siamo più o meno a regime partiamo. Ok, direi che piano piano tanto che spiego il presbarra, che è molto semplice oggi. Prima posizione, facciamo. Punta lì, chiudo. Tandì, flex. Punta, plie, quarta, stendo e chiudo. In tutte le riposizioni. Seconda, chiudo. Seconda, flex. Punto, plie, stendo, chiudo. Dietro, chiudo. Dietro, flex. Punto, plie, chiudo. Un tandì lento. Due, veloci. E un plie alla seconda per andare con la sinistra. Ok, facciamo la stessa cosa qua a sinistra. Uno, due. La musica è molto tranquilla e quindi veramente iniziamo la giornata. Quindi così. Tandì, chiudo. Tandì, flex. Ok, punta, plie, e lì stendo e chiudo. Seconda, dietro stessa cosa. Un tandì alla seconda, tutto con la sinistra. E poi facciamo i nostri bord de bras. Ok, ve li dico, tanto sono semplici. Ok, dai ragazzi, iniziamo. Buongiorno. Ok. Due mani alla spalla, belli gritti. Prima posizione. E... Tandì. Prima. Tandì. Flex. Punta. Lì, e lì. Stendo. Prima. Tutta la seconda. Uno. Due. Due. Flex. Punta. Lì, e lì. Stendo. Prima. Dietro. Chiudo. Dietro. Flex. Punta. Lì, e lì. Stendo. Chiudo. Uno lento, due veloci. Uno. Chiudo. E... Due. Tandì. Lì, e lì. Stendo. Sinistra. E... Avanti. Chiudo. Avanti. Flex. Punta. Lì, e morbido. Stendo. Chiudo. Seconda. Uno. Due. Tre. Allunga bene la gamba. Come se il tallone volesse toccare terra. Lì, e... Non alzate la gamba quando fa il flex. Non si alza la gamba. Rimane al stesso livello. Ok? Chiudo. Uno. Flex. Allunga, allunga, allunga. Punta. Lì, e... Stendo. Uno. Seconda. Due. Seconda. Allie. Uno. Lì, e... Stendo. Prima. Un po' le bravi. Uno. Grande e morbido. Due. Tre. Scivola la seconda. E... Ancora. Due. Tre. Paralleno. Allunga. Lietro che era grandissimo. E... Grandissimo. Dietro. Allunga, lunga, 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 lunga. Torna su. E... Sinistra. Vai. Uno. Due. Tre. Scivola la seconda. Morbido. Cinque. Sei. Allunga bene. Allunga bene. Allunga per tornare. E... Vai. Chiu. Ok. Bene. Morbido, eh? Allungatevi bene la schiena e tutto. Va bene. Plie. Come al solito, facciamo due demi-plie. Possiamo fare il braccio alto. Demi-plie su. Demi-plie. Grand-plie in prima posizione. Port-de-bré avanti, port-de-bré dietro. Seconda posizione. Demi-demi. Grand-plie. Port-de-bré verso la sbarra, verso il centro. Torna. Quarta posizione. Facciamo due demi-plie. Cambia. Andiamo. Quarta dietro due. Demi-plie. Ritorna. Port-de-bré avanti, verso la sbarra, verso dietro. Al centro. Torna. Quinta. Due demi-grand-plie. E port-de-bré dall'altra parte. Anche qui la musica è tranquilla. Iniziamo con calma la nostra giornata. Ok? E. P-lie. Step. Profondo P-lie. E vai. E avanti. E ritorna. Due spalle indietro. E ritorna. Seconda. P-lie. Step. P-lie. Step. E-tra. P-lie. Torna. Apro bene. Allora. Torna. Al contrario. Prima gli addominali. E vai. I-wa-ta-pli. Step. E cambia. E-lie. Step. E-lie. Porto i bravi. Avanti. Sbarra. La sbarra. La sbarra. Con calma. E allora. Anula. E-ve le ve. Giù le spalle. Lungo il braccio. Tengo gli addominali. Stacco. E-stop. E-lis. E-lis. Bene. Andiamo a sinistra. E-lis. Vai. Porto avanti. A-lis. Andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra. Andiamo a sinistra. Due. Seconda. Orbito. Uno. Due. Andiamo a sinistra. Allunga bene. Allunga. 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 Adesso scelta. E-quart. A-uno. Dammela. I-e. I-e. Porto avanti. Adesso la sbarra. Tutto lo conto. Usa tutta la musica. E-dietro. E-dietro. E-stendo. Li. Da. Li. E-scia. E-dietro. E-dietro. Spagna. E-e. Davanti. Torna. L-ie. Stringi bene le gambe, stretta la quinta, sulle braccia, morbide ma tenute, stai, 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 ricordatevi che con la coda dell'occhio dovreste vedere il palmo della vostra mano, non state troppo indietro con le braccia, qui, comodo, naturale, ok, va bene, ok. Ok, tan du, tan du in prima, facciamo, braccia rimane sempre alla seconda, un tan du in prima, due plie, stendo, un tan du in seconda, due plie, no, un tan du in avanti, un tan du in seconda, avanti, plie, rond, prima. Tutto dietro, uno, due, plie, taglia, 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 tag la gamba di terra, il piede striscia leggermente sul pavimento, si allunga la gamba e ruota, e ruota, andai ora, e chiude, e chiude, va bene? La musica è sempre quella, quindi la dovreste conoscere, vi faccio sentire il lavoro, partiamo un attimo, e facciamo avanti, chiudo, e, due, pie, ok? Questo è il ritmo, andiamo, pronti? Due, tre, quattro, uno, due, due, pie, stendo uno, e, due, pie, e, avanti, chiudo, seconda, chiudo, avanti, pie, e, via, e, via, e, chiudo, dietro, chiudo, e, chiudo, e, pie, seconda, chiudo, e, due, pie, e, indietro, chiudo, e, via, pie, e, chiudo, e, quinta, sinistra, e, chiudo, due, pie, seconda, chiudo, due, pie, e, avanti, chiudo, seconda, chiudo, avanti, tieni le occhi, piega dei miro, chiudo, chiudo, prima, e, uno, due, e, due, pie, uno, due, e, due, pie, e, dietro, chiudo, seconda, chiudo, e, dietro, pie, dei miro, basse, morbide, rotonde, alzare, vanno su in corona, morbide, vanno alla seconda, unito sostenuto, corpo dritto, non state indietro, non state avanti, dritto, come se una linea passasse dentro di voi e scarica a terra, dritti, ok? Perfetto, bene, andiamo in tre quarti, facciamola, faccio vedere con la musica, è facile, comunque, due, manchi un tamlie, e, due, tre, quattro, e, un, due, tamlie, e, e, chiudo, ritorna, chiudo, ancora un avanti, e uno seconda, adesso cinque alla seconda, uno, due, tre, quattro, cinque pie, e, tre, di avanti, che va dietro, e, chiude, ok? Quindi, due avanti, tamlie, chiudo, tamlie, ritorna, avanti, seconda, cinque alla seconda, un passè, che va dietro, tutto dietro, tutto sinistra, va bene? Beh, è facile, mi potete seguire poi abbastanza tranquillo, mh? Braccio nel tamlie, e ritorna, ok? Tre, tre, quattro, e, uno, due, tamlie, e, chiudo, e, ritorna, chiudo, ancora un avanti, e uno seconda, cinque alla seconda, strisciate, non alzate i piedi da terra, due, tre, quattro, scinti, ritiro avanti, che va dietro, chiudo, dietro, uno, due, tamlie, tamlie, e, e, apri, uno dietro, uno seconda, cinque, e, passi indietro, che va avanti, chiude, sinistra, vai, uno, morbido ragazzi, massaggiate, e, chiudo, e, e, chiudo, e, avanti, e, seconda, e, e, uno, due, tre, quattro, cinque, passi, e, chiudo, vai, e, uno, due, morbido, vai, grande, e, vai, dietro, seconda, passi, stai, no, relevi, stai, e, giù, ok, già in questi primi passi state bene dritti con i fianchi, cioè non fate questo, ok, i fianchi rimangono ben dritti, passi, la gamba si alza, ma i fianchi rimangono lì, ok, va bene, adesso, tamlie più veloce, dalla quinta, sempre tamlie, quindi non fate jete, ok, sempre tamlie, quindi appoggiate a terra, ed è, uno avanti, uno seconda, tre dietro, uno, uno seconda, uno avanti, tre dietro, quindi è sempre cambiato, avanti, seconda, dietro, seconda, avanti, così, ok, però soltanto che il primo è singolo, 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 triplo, singolo, singolo, triplo, singolo, singolo, triplo, due alla seconda, e andiamo a sinistra, ve lo faccio vedere al volo, 1, 2, 3, 4, e, 1, 2, scusate, 1, 2, 3, seconda, avanti, seconda, 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 avanti, 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 2, seconda, linee, gira a sinistra, ok, va bene, cambia sempre, cambia sempre, cambia sempre, ok, andiamo, 1, 2, 1, 2, 3, e, 1, 2, 1, 2, 3, e, 1, 2, 1, 2, 3, solo 2, gira a sinistra, vai, e, 1, 2, 1, 2, 3, e, 1, 2, 3, e, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, solo 2, e ritorna, e, vai, allunga, 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 una frase, allunga, ce l'ho di bene, allunga, allunga, quello che vuoi, ok, va bene, va bene, ok, getté, primo, Allora, seguitemi, eh, perché questo qui parte, in levare fa, e, 1, 2, e, 1, 2, e, 1, 2, e, 1, 2, ok, poi sono, woge, cloche, 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 pi, 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 chiudo, eh, 1, questo esce la gamba, e vai in dire, ok, quindi fa, eh, unaware, takia, ta-ta-ta-tian, taran, ta-ta-tan-tan, ta-ta-tan-tan, sarà, braccio sempre alla seconda, cloche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, picchi, e, lo faccio vedere al volo, e poi andiamo, 2, 3, 4, eh, un, eh, un, eh, un, accento detto, E un E Ya Lascia B B B Chiudo Ambro B Taia B Taia Taia Ok Vorrete essere bravi a richiamare Taia E finito qua E qui l'accento Ok? Q di P Andiamo Pronti Taia 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 Plush E Un Due Qua relax E lascia andare libera la gamba Vai Quanto Paia 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 E pronti per la sinistra Eh? Tre Quattro P P P P Sinistra And Taia 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 P P P P P P Taia 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 Bascia Pa 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 Finito Ok Bene Ultimo GT Con la musica Con la musica di Tarantella Facciamo Ta 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 E Due Dietro E tre Alla seconda Tre Av Edro Pas Pas Finito Quindi Faccio sempre la seconda Una mano sbarra Ta 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 Pa 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 Ta 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 Ok Due E poi facciamo a sinistra Va bene? Pronti Occhio eh perché è veloce la preparazione Ta 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 Ok Pronti Vai Due Tre Un Due Tre Dietro Un Due Un Due Tre Avanti Un Due Tre Tre Seconda Un Tre Dietro Plie Passi Stacca Passi Subito sopra Vai Stacca Forti E Ok Bene Sinistra Pronti Vai 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 E Vai Un Due Un Due Tre E Un Due Un Due Tre E Un Due Tre Tre Alla Seconda Tre Di Retro Passi Ok Stai Stai Un attimo Forti Schiena Busto Braccia Tenute E giù Ok Va bene Abbiamo finito con la nostra serie di tambi oggette Adesso facciamo Ronde jamme Iniziamo anche qua In levare E facciamo E Uno Due Cambia gamba E Tre Quattro E Cinque Dei Milon Sei E Sette E Otto Gura Due Un piccolo Tango E Quiz Dietro Gran Rom Stai Gran Rom Stai Quinta E Uno Ok Quindi iniziamo dalla quinta innanzitutto Iniziamo dalla preparazione classica Dio Quinta posizione Vi faccio sentire che cosa intendo per partire In levare Due Tre Quattro E Uno E Uno E Uno Mi robo Sette Otto Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto E tutto E uno Cambia Cambia Andiamo Porto e bracco come al solito Sette Otto E Allunga E Allunga E Allunga Divino Sette Otto Uno Due Tre Tre Quattro E Gran Rom Appoggio Arrota Appoggio Quinta E Uno Due E Tre Quattro E Cinque Nel Sei Sette Otto Ancora Ancora Due Uno Due Grande Quisto Arrota Arrota Appoggio Arrota Appoggio E Arrota Ancora Torna su E Cabri Dietro Fiu E Su la spalla giù la spagna e al cinto alloci e vai allunga 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 cambia la posizione se vuoi allunga allunga su e andai dietro e bella pesca sulle zampe e stacca la mano la sbarra releve e stai 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 e scendi ok ragazzi bene bene godetevelo questo bello grande ballatelo ok già tirate fuori così non è solo un esercizio ma è già danza andiamo sinistra non è partito ecco ecco due e allunga chiudo e allunga chiudo allunga e allunga 7 8 ancora 2 1 2 guardate qui e allunga e allunga e allunga e allunga e allunga e allunga chiudo 1 e 1 e E 1, 4, 7, 8, ancora 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 6, e gran rotta, appoggia, gran rotta, appoggia, quinta, e davanti. Torra su, e dietro, e trova, e verso la sbaglio, e verso il cibo, vai, Allunga lunga 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 Prendetevi un momento dai lunga Ritorna su e cambra dietro E ritorna Vai in arabesco Re le B Stacca Stai, 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 stai Dici Ok Ok, molto bene Facciamo un fondio Anche questo è abbastanza semplice Facciamo un fondio avanti Cambia gamba Un fondio dietro Cambia gamba Un fondio alla seconda E poi quando siamo alla seconda Facciamo Se vogliamo facciamo tutto le le V Questi, poi dipende un po' da voi Attitude Avanti Ritorna alla seconda Un fondio dietro Un fondio avanti Un fondio alla seconda Attitude dietro Ritorna alla seconda Chiude e gira a sinistra Quindi è corto, ok? Possiamo farlo tutto le le V E se ce la fate altrimenti tutto a terra Non è un problema Un fondio avanti Un fondio dietro Un fondio seconda Attitude seconda Un fondio dietro Un fondio avanti Un fondio seconda Attitude seconda Chiudo sinistra Alla fine Abbiamo l'ultima frase musicale In cui facciamo 8 tempi Con questa gamba E 8 tempi Con l'altra gamba di balance Va bene? Tia Papaglia 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 Eh? Allora Bastoso Andiamo Un Un Tre Quattro Plie Relivi Chiudo Plie Relivi Chiudo Plie Relivi Dependenti Atitudine Ritorna Plie Step Plie Step Plie Step Plie Step Atitudine Plie Ritorna Chiudo Sinistra 1 2 1 2 1 2 1 2 2, dietro, 1, 3, cambia, 1, avanti, cambia, 1, seconda, adige, dietro, stai, chiudo, asse dietro, lunghi col corpo, corretta questa parte, cambia gamba, altra parte, e giù, bene, bene, bevete un secondo se dovete, batman cloche, come al solito, 16, cioè 14 per girare, e dall'altra parte, destra e sinistra, avanti, dietro, avanti, dietro, ok, alte le gambe, usate la schiena, piede steso, braccia alla seconda, vai, 2, 3, 4, vai chiudi, sinistra e da 1 va bene, ok, molto bene, adesso facciamo i nostri frappè, facciamo così oggi, 2 frappe avanti, 2 frappe seconda, doppio avanti, doppio seconda, doppio avanti, doppio seconda, doppio avanti, doppio seconda, tornamento, doppio avanti, doppio avanti, Moreover, livelihood flipped ere, 3 rondes de chien, doppio avanti, Lové Rhe Chien, tutte dietro, 1, 2, 3, 4, doppio avanti, selezione, doppio avanti, основ La musica fa così, due, tre, aspettate mi faccio sentire la musica, due avanti, due seconda, doppio avanti, seconda, dietro, seconda, doppio avanti, prima, non è bene, tre rondeggiando, doppio avanti, prima, tre rondeggiando tutto dietro, ok? Ok, andiamo, tre, quattro, e, uno, due, tre, quattro, doppio, 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 e, b, e, tre, ro, e, b, e, tre, dietro, e, qua, due, tre, quattro, doppio, doppio dietro, seconda, uno, due, tre, doppio dietro, seconda, uno, due, tre, attitudine, occhi non ce la fa più relax, ok, attitudine, allunga, ok, bene, ok, va bene. Andiamo a sinistra, forza! Due, tre, quattro, e, cia, due, tre, quattro, doppio avanti, seconda, dietro, seconda, doppio avanti, re, tre, ro, doppio avanti, re, tre, e, ro, dietro, uno, due, tre, quattro, doppio dietro, avanti, seconda, doppio dietro, re, tre, un, due, tre, doppio dietro, re, tre, un, due, tre, chiude, attitudine. Ora è nazi, se non ce la fate, dai. Ok, molto bene, molto bene. Adagio, non è tosto come l'altro giorno, ve lo dico. Allora, facciamo così, uno, due, e, tre, quattro. Uno, due, e, tre, quattro. Adesso la seconda, passe, développe, e, tre, passe, gira dall'altra parte, pancè, 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 chiudo. Uno, due, développe, scende la gamba, fa plié, il braccio accompagna e insieme, braccio e gamba salgono, relevé. Chiudo, passe, développe, plié, su, chiudo. Uno, due, plié, su, passe, gira, fuete, basce, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Va bene? Andiamo. Due, tre, quattro, e, uno, due, e, tre, chiudo quattro. Uno, due, e, tre, chiudo quattro. Uno, due, e, tre, passi, gira, passe, vai, 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 chiude, sinistra, e, passi, developpe, e, su, chiudo, passe, dietro, developpe, dietro, plié, su, chiudo, passe, developpe, piedi, su, passe, gira, lanci, vai, 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 sale la gamba dietro, sale, 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 stendi i piedi dietro, e, torna giù, ok? Finito, dai, era decisamente più leggero di quello dell'altro giorno. Adesso, gran batman, facciamo così, due gran batman avanti, un cloche dietro, due gran batman dietro, un cloche avanti, due gran batman seconda, plié, passe, sviluppa, ancora due gran batman, e gira a sinistra, ve lo faccio vedere. Due, tre, quattro, e, uno, due cloche, due dietro, stessa cosa, uno, due, cloche, chiudo, due seconda, uno, due, e, chiudo ancora due, e, gira a sinistra, ok? Uno, due cloche, uno, due cloche, due alla seconda, plié, passe, due alla seconda, sinistra, andiamo. Allunga, eh? Grande. Grande. Vai. E, chiam, e, chiam, vai, e, chiam, da, da, chiam, e, amanti, e, due seconda, e, passe, du, pe, chiudo ancora due, plié, sinistra, vai, e, chiam, Plié, clouche, chiudo, e, 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 and, clouche, chiudo, e, un, due, e, passe, chiudo, e, uno, due, sinistra, ok? Ok? Molto bene. Molto bene. Facciamo adesso i re-re-ve, per fine la sbarra, soliti. Plie, re-re-ve, prima, plie, re-le-ve, plie, re-le-ve, 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 sì, con plie, re-le-ve, plie, re-le-ve, plie, re-le-ve, plie, re-le-ve, un piede, plie, re-le-ve, plie, re-le-ve, stessa cosa sull'altro piede, ok? Dai che poi la sbarra è finita, forza! Due, tre, quattro, plie, stendo, re-le-ve, giudo, plie, stendo, re-le-ve, plie, re-le-ve, 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 e, seconda, plie, su, plie, su, plie, re-le-ve, re-le-ve. Una gamba, plie, re-le-ve, plie, su, plie, scendi, re-le-ve, scendi, su, giù, su, giù, sinistra, plie, su, plie, su, plie. Su, giù, su, giù, su, giù, sta, finito. Ok, stretching, l'ho riattivato in tanti commenti. Ok, tutto bene, problemi? Ricordatevi sempre, se sentite non più in sincro la musica e i movimenti, dovete semplicemente uscire dalla diretta e rientrare, ok? Perché tanti ce lo segnalano, però non si può fare altro. Altre cose, boh, non so. Strecciare l'impatto, no? Strecciare l'impatto, no? Ah, si era interrotta, ok, vedi che ogni tanto capita, eh ragazzi, abbiamo una rete sovraccarina, ma facciamo tutto su internet, buongiorno, buongiorno ragazzi, ah da Parigi, ciao ciao, c'è, dal Brasile, ma che ora suoni in Brasile? Non è tardi, no, è presto, cioè prima, va adesso. Non so, metti un po' d'acqua se si scivola, spruzzate un po' d'acqua sul pavimento, bagnate le scarpine, che così si scivola un po' meno, oppure la Coca-Cola, però sono un po' di pavimenti, però è una buona strategia. San Diego, che bello, da Torino, da Londra, meraviglia. Brava, ci ha provato, ecco, bene, da Parigi. Eh, a suo fascino sta cosa, però, da tutte le parti del mondo ci si trova. Ok, da Milano, e vabbè, giusto, questo è facile. Siamo qua tutti. Va bene, anche io sono a Milano, va bene. Ok, allora, tolgo i commenti, poi ci salutiamo alla fine. E andiamo col centro. Allora, vediamo se è puntata giusto la camera, spero di sì. Così, ok. Allora, anfass, ok, quindi io adesso sono storto perché sono anfass alla camera, però voi partite anfass, ok? Fate passì, develope avanti, demiro in seconda, chiudo, dietro. Passì, develope dietro, perché non farei questa roba, eh? Tutto bene, allora, ruota, chiudo, avanti. Passì, seconda, fai in arabesca. E, vado a regolare sul posto. Passì, che va dietro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Molto semplice, basico, ma quadrato, così sentite i fianchi. Uno, plie, demiro in chiudo. Uno, plie, ruota subito la gamba. Alla seconda, chiudo. Uno, seconda, arabesca, plie, pade, pure, passeca e va dietro. Va bene? Andiamo. Dietro, ruota subito, esco, tre, quattro, e uno, due, demiro, chiudo dietro, passi, bie, demiro, chiudo avanti, passi. Delrope seconda, arabesca, stai su, su, sulla gamba, ie, pa, bu, tre, viene lento, scena, passi, ie, demiro, chiudo dietro, passi, ie, subito la gamba che gira a me, o, e chiudo, passi. Delrope seconda, fu, e te, arabesca, ie, pa, bu, re, e spingi, giù, ok? Bene. Quando salite in releve, ricordatevi di spingere giù il pagamento, ok? E spingi giù, così salite, ok? Va bene. Ok. Io lo suono? Ok, andiamo tempo. Allora, crua se, due avanti, danne, chiudo, danne, chiudo, due dietro, danne, chiudo, danne, chiudo, danne, chiudo, se, conda, chiudo, seconda, chiudo, tre, e uno, due, tre. Tutto sinistra, due avanti, due dietro, due seconda, tre, seconda. Adesso, passi, quarta, releve, quarta, pirouette, quarta, danne, quinta. Passi, quarta, releve, quarta, pirouette, quarta, danne, quinta. Non pensate a girare tanto qua, è veramente soltanto una pirouette di piazzamento, ok? Quindi è solo un giro, ok? Quindi sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Tutto a sinistra e poi invece uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Facile. Va bene? Curose. Arabesque, anfas per la seconda. Andiamo. Testa avanti. I, fuori, dentro, fuori, cambiato, dietro, a, ta, sha, ta, seconda. Uno, due, tre, quattro, tre, uno, due, tre, fermi i fianchi. Uno, due, tre, quattro, soprattutto qua. Tenete il fianco. Seconda. Uno, due, tre, quattro, e uno, due, tre, quattro, passiva, quarta, relevento, quarta, un giro, quarta, stempo, quinta, passiva, quarta, relevento, quarta, un giro, quarta, stempo, quinta. Ok. Molto bene. Molto bene. Con la stessa musica, appena, appena più lento, facciamo jeté. E facciamo. Piatatam, papapam, papapapam, papapam, papapam, due, dietro, piché, piché, quinta. Due, seconda, piché, piché, quinta. Uno, due, tre, quattro. Due, due piché, due, due piché, due, due piché e quattro. A questo punto abbiamo finito con la destra davanti e facciamo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Ok? Quindi la stessa cosa che abbiamo fatto prima, solo con la più rettandedà. Anche qui stesso discorso. Di prima non serve girare, serve andare in balance. Stare sulla gamba d'appoggio bene, salirci bene, essere corretti con i fianchi e con l'equilibrio. Va bene? Va bene? Uno, due, piché, chiudo. Uno, due, piché, chiudo. Uno, due, piché, chiudo. Quattro. Sinistra e poi più rettandedà. Andiamo. Uno, due, piché, chiudo. Uno, due, piché, chiudo. Uno, due, piché, chiudo. E, uno, due, piché, chiudo. Quattro. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bene. Ok. Ok. Fondio al centro. Facciamo così oggi. Stessa cosa. Ribattiamo un po' la frettata, ma stessa cosa. Un fondio avanti, relevé. Un fondio alla seconda, relevé. Un fondio dietro. Che va. Closso avanti, dello pé. Closso avanti, ando pé, chiudo. Piro, è il primo andedà. Scevola in quarta. Piro, attento e ora. Chiudo. Recupera la posizione. Uno, due, due. E tre. E quattro. Piro, attento e danno. Piro, attento e ora. Ok. Qui, se avete spazio e vi sentite sulle vostre gambe, potete tentare di fare due giri perché c'è tanto tempo. Ok. Altrimenti, no problem. Fate sempre uno. L'importante sono gli equilibri sulle relevé. Ok. Andiamo. Musica lenta. Non mi odiate. Fanno bene. Fidatemi. E. Pli. E. Re, le, le. Pli. E. Re, le, le. Pli. State su, state su. E. Avanti. Angolo. E. Prepara. Piru. Eh, preparazione, scusa. Piruette. E chiudo. E scivola. Guarda. E su. E giù. E. E ya. Sciu. Ya. Sciu. Ya. Sciu. Ya. Sciu. E. And. Do. E. Piruette. Punta. E scivola. Quarta. E. Piruette. E. Stai. Ok. Bravi. Va bene, va bene, va bene. Non vi torturo ulteriormente. Saltiamo. Facciamo come abbiamo fatto martedì. tre in prima, al quarto, apri in seconda. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Chiudo quinta. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Uno, due, tre, quattro. Uno, due, tre, quattro. Due, tre. Uno, due, tre. Va bene? Ho una frase di pausa e si rifà. E' una. Pronti? Prima posizione. Forti. e uno, due, tre. Apro quattro. Uno, due, tre. Chiudo quattro. Uno, due, tre. E stai. Uno, due, tre. E stai. E ancora. Uno, due, tre. Apro quattro. Due, due, tre. Quinta. Uno, due, tre. Uno, due, tre. Stop. C'è che la gamba. Calma. Uno, due, tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Pronti? Uno, due, tre. Quattro. Cinque. Sei. Vai. E uno, due, tre. Apro quattro. Uno, due, tre. Chiudo. Uno, due, tre. Ah. Ah. Uno, due, tre. Ah. E uno, due, tre. Quattro. Uno, due, tre. Quattro. Uno, due. Stai. Uno, due. Stai. E. Bravi. Bravi. Se diciamo che facciamo dei salti, in cinque minuti facciamo tutti i salti, quelli possibili. E d'altronde, in squandre, se vuoi fare grande teso, no? Vabbè. Ok, riposate ancora un attimo. Allora, oggi proviamo, per chi vuole farlo, altrimenti normale, facciamo così. E sciape tanneve tanneve en chiudo. E sciape tanneve tanneve en chiudo. E sciape tanneve tanneve en chiudo. Antunan. Ah, no, no, sbagliati, aspetta, scusa. E sciape tanneve tanneve en chiudo. E sciape tanneve tanneve en chiudo. Quarta, seconda, quarta, chiudo. Adesso, quattro, antunan, shajman. Uno, due, tre, quattro. Se non ve la sentite di fare gli shajman antunan, li fate quattro sul posto. Am fast. Ok? E sciape tanneve en chiudo. E sciape tanneve en chiudo. Quarta, seconda, quarta, quinta, uno, due, tre, quattro. Sinistra. E sciape tanneve en chiudo. E sciape tanneve en chiudo. Quarta, seconda, quarta, quinta, uno, due, tre, quattro. Va bene, ragazzi? Andiamo. Molto bene. Quarta, seconda, quattro. E in quarta, seconda, quarta, qui. Jajman, 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 jajman. Stai. Molto bene. Va bene, va bene. Allora dai, l'ultimo salto per chi se la sente. Facciamo. Andiamoci a una domanda. Ah, giro sempre la camera, faccio casino A che altezza va la sbarra? Ah, è questa, era la prima Allora, aspetta, è dopo L'altezza della sbarra È più o meno un metro Non so, però vedi, è questa Cioè È un po' bassa questa, perché l'abbiamo fatta per la nostra figlia Dovrebbe essere leggermente più alta Un po' più alta del fiato, più o meno Ok L'ultimo salto, dai, che poi Se non mi passa il tempo Allora, facciamo così Assamble Su, su Quindi non cambia Changement, changement Changement Assamble, changement, assemble Vedi perché stai facendo Allora Assamble, su, su, changement, changement Changement, assemble, changement, assemble Assamble, su, su, changement, changement Changement, assemble, changement, assemble Ok? Quindi abbiamo fatto l'assemble sul primo conto Assemble Su, su, changement, changement Adesso Changement, assemble, changement, assemble Assamble, su, su Changement, changement Changement, assemble, changement, assemble Ok? Faccio vedere un secondo Se ce la faccio Assamble, su, su, changement, changement C Sca EC Assamble, su, su Changement, changement, changement Assamble, changement, changement, assemble Ok? Ok Ok, la musica va due volte Chi ce la fa La fa due volte E chi non ce la fa Una Ok? Assamble, su, su Change, schedule Changement, assemble, changement Pronti? Assemblei Ok, ok, va bene così, è sufficiente direi. Ok ragazzi, grazie, grazie mille. Parti, nostra musica di saluto e basta ci vediamo settimana prossima, grazie di essere sempre tanti, che ci seguite. Ciao Roberto, grazie. E niente, che dire, teniamo duro. Vediamo se ci siano altre domande. Come si può avere la mia maglietta? Eh, questa qua è una domanda, guarda, te la metto qua. Track, track. Credo che sul sito di OnDance si possa comprare. Vai a vedere, ok? Poi vediamo un po' che altre domande ci sono. Maestro per la maglietta, l'ho risposto. Grazie per le musiche. Le musiche sono della mia applicazione Ballet Class, vi faccio un po' di reclamo. Quindi se vi piacciono scaricate l'applicazione e le trovate lì. Nello shop è il suo sito, esatto. Le magliette sono nello shop del sito di Roberto. Va bene? Durante l'anno tango stage. Sì, adesso è tutto, non c'è niente, è stato fermo. Però sì, di solito insomma qualcosa faccio. Sì, domande quelle private, fatemelo in privato. Va bene. Ah, 12 secondi. Ciao, finita? Ciao, 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 ciao.